It's all, Attics! Benvenuti in questo video con DS3 Crossback in questo colore bellissimo, un Millennium Blue. È un 1.2 di cilindrata, 120 cavalli benzina con cambio manuale. Vieni, avvicinati, è un allestimento so chic, ha tutta la calandra nera lucida a contrasto con la carrozzeria e con queste cromature che troviamo molto spesso nei modelli DS. Abbiamo poi gruppi ottici molto ampi, andiamo a vedere i cerchi in lega B-color da 17 pollici. Abbiamo anche il passaruota che fa il giro di tutta la vettura in nero. Altra cosa nera che troviamo è il tetto a contrasto e gli specchietti che fanno sembrare il tetto sospeso. Classica pinna della DS che va a prendere il terzo montante e poi abbiamo le maniglie a scomparsa cromate. Vieni, andiamo a vedere il bagagliaio di questo crossover. Intanto facciamo vedere il gruppo ottico che si allunga e diventa un tutt'uno per tutto il posteriore con la scritta Crossback. Molto molto bello. Andiamo ad aprire il bagagliaio, l'apertura è qui vicino alla targa. Ecco qua, abbiamo un bagagliaio da 350 litri che diventano 1050 abbattendo i sedili. Vi abbatto un sedile per farvi vedere come diventa il bagagliaio con il sedile abbattuto. Eccoci qua, abbiamo un leggero dislivello perché non c'è il doppio fondo in questo momento. Andiamo a bordo? Chiudi tu, chiudo io, chiudiamo insieme. Uh, ok. Allora, eccoci qui a bordo. Abbiamo un tessuto misto pelle, non mancano ovviamente gli attacchi Isofix, una spanna davanti alle gambe e una mano sopra la testa. Forse il terzo passeggero posteriore deve essere quella persona un po' più bassa perché abbiamo un tunnel centrale leggermente alto. Andiamo sul davanti e vediamo com'è quest'auto a bordo. Mentre io prendo le chiavi, soffermati sulle portiere perché ci sono tutti i dettagli dorati, ok? Che devono piacere, perché comunque abbiamo tantissimo oro sulle portiere, anche sulla plancia. Tutti i tasti che troviamo sono a sfioro, quindi non sono touch, ma a sfioro possiamo andare nelle varie pagine del menu. Adesso aspettiamo un attimo che parta, ecco, sfiorando andremo nel clima, nel navigatore, in tutte le info della vettura, il volume e tutto il resto. Abbiamo un vano per lo smartphone, lo start and stop, tantissimo design per l'ADS, guarda anche i comandi al volante con le rotelline per gestire l'infotainment oppure il quadro strumenti digitale. Possiamo andare a personalizzarlo scegliendo la visuale. Che altro possiamo dire? Guardiamo qua, abbiamo una presa da 12 volt e un pozzetto sotto il poggiabraccio. Andiamo giù perché voglio parlarvi dei consumi e di quando è questo veicolo, ma prima di scendere, mentre scendi, fai a vedere le bocchette d'ariazione direttamente sulla portiera romboidali, grazie. Allora, non ho detto quanto è grossa quest'auto, lo dico adesso, è lunga 4,12 metri, largo 1,79 metri ed è alto 1,53 metri. Abbiamo come consumi 20 chilometri con un litro di media, è di maggio 2020 con 14.509 chilometri. Non sembra praticamente utilizzata perché non ha nessun segno né all'interno né sulla carrozzeria, quindi può essere vostra, basta andare su raffix.com. Alla prossima!